Musica Ben ritrovati amici di Diffusion e di DTV Vi aspettavo con una certa ansia perché giovedì e il giovedì voi lo sapete io sono una grande amante degli animali è la mia puntata preferita perché è proprio dedicata a loro questa settimana assieme a Silvia e ad Alessandra andiamo a scoprire dei piccoli roditori amici che in tantissime case sicuramente abitano loro sono le cavie e i porcellini d'India Musica Grazie per ora della linea, ben tornati a Mondo Cucciolo oggi ci troviamo qui per parlare dei nuovi animaletti da compagnia in particolare dei piccoli roditori oggi parleremo della cavia o porcellino d'India la cavia o porcellino d'India è un animaletto originario del Sud America in particolare della regione montuosa delle Ande e ha questo nome particolare per due ragioni è stato chiamato porcellino d'India anche in varie lingue per innanzitutto l'attribuzione sbagliata della provenienza Cristoforo Colombo pensò di arrivare nelle Indie vide questi animaletti che dalla forma, dalla testa molto sviluppata il corpo minuto ricordavano dei maialini, dei piccoli maialini anche il verso che fanno molto particolare ricorda un po' quello dei suinetti per cui li chiamò porcellini d'India pensando appunto di essere arrivato nelle Indie il nome cavia invece è più tristemente famoso legato all'utilizzo legato alla sperimentazione animale che si è fatta più in realtà negli anni passati perché questo animaletto ha la particolarità tra i pochissimi animali come l'uomo di non essere in grado di sintetizzare la vitamina C per cui, avendo questa similitudine con l'uomo è stato appunto utilizzato soprattutto per la sperimentazione sugli antibiotici è un animaletto appunto che vive nelle praterie molto timido di cui esistono varie specie esistono delle specie a pelo corto, delle specie a pelo lungo e a seconda appunto del tipo di specie abbiamo anche dei nomi diversi la cave peruviana è quella che si intende tipicamente a mantello lungo mentre il porcellino d'India più classicamente inteso è quello a pelo corto tipo inglese in realtà in commercio oggigiorno si trovano più che altro degli incroci come in questo caso di animali che sono stati appunto risultano ibridati tra un animale a pelo corto e un animale a pelo lungo possono presentare dei caratteristici ciuffi come in questo caso e in quel caso vengono chiamati rosetta ti lascio Alessandra parlare delle caratteristiche della cavia tra l'altro negli ultimi anni ci sono anche state anche selezionate cavia a pelo riccio che sono le ultime arrivate le ultime perlomeno diffuse come abbiamo detto è un animalino originale del Sud America delle zone comunque di altitudine possono vivere fino a 4200 metri e in origine quella è la loro terra dove si trovavano questi gruppetti di cavia o porcellini d'India vivono generalmente in gruppi di una decina di soggetti dove c'è un maschio dominante e comunicano tra di loro con dei fischi molto particolari si sono studiati fino ad oggi 11 tipologie di fischi con le quali le cavie comunicano tra di loro generalmente le zone in altitudine delle Andi in altitudine dove loro vivono nel Sud America sono ricoperte da un manto erboso per cui lì la vitamina C non li verrebbe mai a mancare per cosa invece che ad oggi si sopperisce aggiungendo l'alimentazione con integratori specifici nel mangime e nel beverino dell'acqua una caratteristica di questo roditore come di altri roditori è che hanno denti a crescita continua quindi è molto importante fornirgli oltre al loro mangime che dopo vi faremo vedere sempre fieno perché abbiano una fibra da rosicchiare e anche che aiuta la loro digestione acqua sempre a disposizione frutta e verdura sono molto importanti il porcellino d'India è un animalino molto timido e ha bisogno quindi in natura non fa delle tane ma si impossessa di tane di altri animali dove si nasconde perché è molto fifoni sono animalini molto timorosi quindi bisogna lasciarli in casa molto tranquilli senza stressarli troppo e loro vivono in gruppetti e sono molto prolifici e infatti la femmina è meglio farla partorire dopo il settimo mese di vita e generalmente nascono piccoli generalmente sempre nascono piccoli già ricoperti da pelo con gli occhi aperti molto vivaci sarebbero già in grado di nutrirsi da solo anche se la mamma per tre settimane gli allatta comunque per quanto riguarda invece la gestione di questi animaletti in casa bisogna considerare qualche piccola differenza che c'è da quello che era l'animale allo stato selvatico libero appunto in queste praterie a quello che è diventato l'animale nelle nostre case è un animale tipicamente crepuscolare o notturno per cui allo stato brado preferisce uscire dalla tana solo nelle ore del tramonto verso sera e durante la notte perché essendo una preda è in questo modo molto più protetto dal buio e dalle tenebre nella vita quotidiana di casa invece questa cosa si è un pochino persa per cui è molto facile vedere la cavia più attiva, più giocherellona di sera ma in realtà sveglia anche durante il resto della giornata alternando piccoli pisolini è un animale che mantiene comunque la sua forte identità sociale per cui ha assolutamente bisogno comunque di compagnia per cui l'ideale sarebbe allevarla almeno in coppia tenendo però presente appunto l'elevata prolificità per cui il possibile problema della prole oppure in compagnia visto che sono animali sociali anche dello stesso sesso l'importante è che magari vengono allevati fin da piccoli insieme in ogni caso la compagnia dell'uomo è sempre comunque indispensabile un'altra cosa importante se scegliete la cavia come nuovo animale come NAC quindi nuovo animale da compagnia è se gli date un'abitudine quindi di passare con lui un certo numero di ore o certe abitudini di vita che avete in casa non cambiarle bruscamente perché poi potrebbe portare molto stress all'animaletto dicevamo appunto che è un animale molto docile molto affettuoso quindi adatto ai bambini però anche molto timoroso per cui è importante spiegare ai più piccoli il modo corretto di approcciarsi a questo animaletto evitare gli urli evitare i movimenti improvvisi avvicinarsi con molta dolcezza in modo che non sia spaventato dalla nostra presenza dai nostri gesti un'altra cosa importante a differenza di quello che succede in natura dove può scegliere dove andarsi a nascondere o dove passare le ore della giornata in casa questo non può succedere per cui siamo noi che dobbiamo essere bravi a fornirgli tutto ciò di cui può avere bisogno in particolare il nido deve essere sempre presente dove si possa nascondere e nel momento in cui è nel suo nido evitare di andarla a disturbare svegliandola o prelevandola e appunto ovviamente tutto il necessario che poi dopo vedremo ricordatevi anche i vostri se avete altri animali in casa quindi il cane, il gatto che possono avere istinto predatorio e la cavia essendo un tipico animale preda state attenti portatelo nel posto giusto dove possono rifugiarsi e riposare tranquillo per quanto riguarda invece la libertà che noi concediamo alla nostra cavia sono animali che in natura non hanno sviluppato una particolare abilità motoria perché non ne avevano bisogno per cui non saltano non fanno grosse acrobazie sono molto veloci nel correre soprattutto nel nascondersi e questo può essere un problema se magari si nasconde in qualche angolino della casa per cui attenzione anche agli ostacoli i dislivelli e le altezze possono essere per lei molto pericolose l'altra cosa a cui bisogna considerare nella gestione appunto della casa della buona accoglienza nelle nostre case di questi animaletti è lo spazio a cui loro possono accedere ebbene essendo dei roditori rosicchiano per cui stare attenti a ciò che può rosicchiare in casa di dannoso per noi ma anche per lei come ad esempio i fili elettrici per cui è bene quando noi non ci siamo nelle ore della nostra assenza tenerla chiusa all'interno della sua gabbia dove è al sicuro ma permetterle anche di uscire nel momento in cui noi rientriamo in modo da poter fare un pochino di moto e poter correre un atteggiamento molto particolare molto simpatico della cavia viene chiamato popcorning perché questi animaletti fanno dei versetti striduli molto forti saltellando per manifestare uno stato di eccitazione e di gioia proprio un po' come i popcorning quando scoppiettano nella padella spesso lo fanno quando gli si mette il mangiare nella gabbia la verdura, il fieno sono molto contenti per cui si vede proprio appena messo il fieno fresco che saltellano fischiettando è una cosa molto simpatica altra cosa da ricordare ed è molto importante è l'alimentazione di questi animalini che deve essere ben equilibrata perché come dicevamo prima non sono in grado di sintetizzare la vitamina C quindi va fornito sì il mangime con vitamina C ma anche molta frutta e verdura quindi cicoria i peperoni sono molto ricchi di vitamina C e se li mangiano sarebbero molto utili per questo sedano, carote, un pochino di mela quello che avete in casa va bene pur che non sia né freddo né bagnato temperatura ambiente va bene per quanto riguarda invece gli alimenti commerciali che possiamo trovare oggi giorno in commercio diciamo che servono solo da integrazione alla dieta perché questi vengono arricchiti di vitamine e sali minerali ma è un erbivoro che è abituato a vivere in praterie per cui ricordiamoci di non fornire un'alimentazione troppo ricca in questo caso ad esempio vediamo qui abbiamo un misto dove sono presenti dei cereali, degli estrusi e dei semi tal quali questa è un'alimentazione varia che va benissimo ma non bisogna eccedere perché il cereale è molto ricco e favorisce le fermentazioni intestinali per cui può dare dei problemi digestivi al nostro animaletto questo invece è un pellettato di erbe per cui all'interno di questi cilimbretti troveremo solamente delle erbe pressate quindi molto più digeribile, molto più leggero e potremo tranquillamente alternare i due tipi di alimenti in modo da avere una dieta ricca, varia e non eccessivamente pesante il fieno mi raccomando sempre presente il fieno va dato sempre fresco e morbido però ben asciutto e inoltre consigliamo di mettere qualche bastoncino al vostro animaletto da rosicchiare che possono essere anche semplici bastoncini ritagliati da albero o da frutto mi raccomando non trattati e un'altra cosa se avete in casa piante velenose quindi possono essere l'oleandro, il rododendro, il vischio la stella di Natale come per tutti gli altri animali soprattutto per questi piccoli roditori state attenti perché se di rosicchiano sono velenose, si intossicano come per tutti gli altri animali da compagnia che abbiamo nelle nostre case di cui amiamo occuparci e prenderci cura di loro anche la cavia può essere soggetta a qualche malattia o parassitosi in realtà non in particolar modo non sono animali delicati o estremamente facili alle malattie però non vanno vaccinati a differenza ad esempio del coniglio però bisogna fare attenzione ad alcune caratteristiche abbiamo detto non sono in grado di sintetizzare la vitamina C per cui se l'alimentazione non è adeguata la carenza di questa vitamina molto spesso comporta una fragilità dello scheletro per cui vanno in contro a fratture ce ne accorgiamo perché l'animaletto si muove poco volentieri magari saltella piuttosto che camminare e questo è uno dei sintomi principali appunto del disagio che avverte all'apparato scheletrico molto più comuni invece sono le parassitosi sono i piccoli parassiti soprattutto a livello di acari che possono essere acari della rogna del pelo o piccoli pidocchi che possono infestare la pelliccia del nostro animale per cui è bene controllare periodicamente lo stato di salute di cute e pelo e nel caso fare degli sciampi o dei trattamenti specifici antiparassitari in alcuni casi soprattutto in condizioni di allevamento dove gli animali sono molto numerosi si possono fare anche dei trattamenti preventivi per evitare grosse infestazioni dunque facciamo una piccola lista delle cose a cui dovete stare attenti e da controllare sulla salute del vostro piccolo animalino quindi l'importante è che non abbia diarrea che non si muova a scatti e che non si gratti molto state attenti alla cute che non presenti croste e che non ha presenti degli spessimenti tipo con forfora e altra cosa lo scuolo nasale è molto importante perché potrebbe avere problemi respiratori adesso abbiamo anticipato qual è la vita e le caratteristiche di questo animaletto vedremo come si allestisce una gabbia per ospitare il porcellino d'India nelle nostre case adesso vi facciamo vedere come allestire una gabbietta prima di ritirare il vostro animaletto e prima di ospitarlo a casa vostra qui abbiamo preso per comodità una gabbia che in realtà è un po' piccola quindi non meno considerate una gabbietta non più piccola di questa quindi questa come misura minima allora appena presa la gabbia la apriamo e mettiamo il fondo il fondo deve essere o un pellettato di legno pressato depolverizzato o altrimenti del tutoro di mais che è all'interno della pannocchia del mais tritata sempre depolverizzata e igienizzata non mettete segatura perché la segatura o comunque il truzzolato di legno assorbono molta umidità e a loro non va bene stare nel bagnato quindi poi sono più polverose cosa che può portare a più problemi di prurito di pelle, di acari questo è un caratteristico pellettato di legno è quello diciamo che tra i vari materiali è quello più assorbente che potete utilizzare sia per la cavia come anche per gli altri roditori è atossico la possono rosicchiare non dà problemi né all'intestino né ai denti prima di richiudere la gabbia pensiamo agli altri arredamenti ingombranti che possono servire prima di tutto il nido abbiamo detto che è un animale timido per cui in un angolo dove magari si possa sentire più al riparo metteremo la sua casina in cui si potrà nascondere quando vorrà sentirsi un pochino più tranquilla se riuscite a trovare un nido in legno ancora meglio perché potrà anche lì rosicchiarlo per limarsi i denti a proposito della limatura dei denti ricordiamoci che appunto sono in continua crescita per cui oltre a fornire loro la possibilità di limarseli è bene controllarli periodicamente per verificare che non vi siano anomalie a questo punto possiamo inserire le ciotole dove metteremo il mangiare possiamo decidere se metterne una o più di una in modo da tenere separati gli alimenti o un'unica dove viene mescolato i due tipi di alimenti che vogliamo fornire e anche questa cercheremo di metterla in modo da poter comunque permettere all'interno della gabbia un pochino di movimento la ciotola invece se riuscite a metterla in ceramica vi risparmiate di acquistarne una dopo l'altra perché lui si divertirà molto a rosecchiare e rovinare quelle in plastica a questo punto possiamo rimontare il coperchio della gabbia e completare con gli accessori che mancano che invece vengono agganciati alle sbarre innanzitutto parlando di alimentazione abbiamo detto l'importanza del fieno la cosa più comoda è il porta fieno il porta fieno è una vaschetta generalmente in plastica che si monta all'esterno della gabbia appendendo dalle sbarre e dove il fieno verrà inserito dall'alto in questo modo potremo facilmente caricare il foraggio ogni volta che ci accorgeremo che sta per terminare attraverso le sbarre ovviamente riuscirà poi a prendere i fili di fieno a mangiarli altra cosa importante che in questo modo il fieno rimarrà sempre pulito e non si sporcherà con i suoi bisogni che poi andrà a mangiare quindi questa è una cosa di igiene di base ovviamente una volta assicurato la giusta alimentazione nella nostra cave sarà importante assicurarci che possa bere per cui a differenza di quello che viene fatto con animali come il cane e il gatto nei roditori è sconsigliata l'uso delle ciotole perché possono facilmente rovesciarla rimanere senza acqua o comunque sporcarla e inquinarla con le urine la cosa più tipica è il beverino il beverino a goccia non è altro che un serbatoio di solito di dimensione abbastanza capiente perché appunto avendo un'alimentazione prevalentemente secca tendono a bere molto e ricordiamoci nei mesi estivi l'acqua deve essere sempre a disposizione anche se noi stiamo via tutta la giornata viene riempito sotto al rubinetto semplicemente richiuso col tappo a vite e inserito anche questo nelle sbarre troveremo la sua clip questa verrà ingangiata nelle sbarre e questo semplicemente incastrato nella presa ricordatevi inoltre che se pensate e se utilizzate il vitamina C nell'acqua da bere bisogna tutti i giorni regolarmente cambiare l'acqua e mettere vitamine nuove perché da un giorno all'altro si deteriorano e non sono più utili al vostro animaletto a questo punto a seconda della dimensione della gabbia possiamo decidere di inserire o meno alcuni giochi fondamentali sempre e comunque abbiamo detto alcuni legnetti che servono semplicemente sia come passatempo sia appunto per dimarsi i denti quando lo spasmo e il fastidio aumentano oppure anche dei giochi come palline o altre cose sempre in legno naturale non trattato con cui si possano divertire ovviamente vale sempre la regola che deve potersi muovere all'interno del suo spazio per cui evitiamo di riempire troppo la gabbia in questo modo altrimenti non riuscirebbe più a muoversi un'altra cosa importante riguarda i denti state molto attenti controllate che la mandibola e comunque la masticazione sia normale se trovate anomalie dateci un'occhiata o comunque parlate all'anno veterinario perché i denti della cavio sono a crescita continua per cui se l'alimentazione è errata o se non rosicchiano abbastanza vi troverete con delle punte o a volte fanno addirittura un ponte sopra la lingua e l'animalino non riesce più a bere a mangiare come dovrebbe ok a questo punto la gabbia è pronta per cui possiamo inserire il nostro animaletto quando prendete il vostro animalino in braccio attenetelo sempre appoggiato a voi in modo che comunque non si spaventi perché loro fanno come vedete scatti molto veloci per cui potrebbero cadere in terra tenete sempre una mano sotto al sedere dell'animalino per dargli equilibrio e sensazione di fermezza e l'appoggiate all'interno della gabbietta ciao a tutti ci vediamo nella prossima puntata con un altro uditore a presto avete visto come sono carini sono davvero dei batuffoli di pelo ne vorrei uno anch'io chissà se riuscirò ad averlo in ogni caso questa puntata di diffusion si chiude qui io vi do appuntamento a domani prima però vi ricordo che se avete delle domande da fare ai nostri esperti veterinari potete mandare un'e-mail a programmi chiocciola di itrettinoaltotv.net e allora buon giovedì sera a voi con me ci vediamo domani è venerdì e andiamo insieme a Franz a ballare altra volta ciao 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 ciao